Vivere di rendita significa generare un reddito passivo sufficiente per coprire le spese quotidiane senza dover lavorare attivamente. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo richiede pianificazione, disciplina finanziaria e investimenti o strategie specifiche. Investire in modo intelligente è un aspetto cruciale per chiunque cerchi di vivere di rendita. Una strategia di investimento ben ponderata può contribuire a massimizzare i rendimenti e a mitigare i rischi. La diversificazione è una pratica fondamentale per ridurre il rischio complessivo del tuo portafoglio. Investire in una varietà di asset significa distribuire i tuoi soldi su differenti categorie di investimento, come azioni, obbligazioni, immobili e altri strumenti finanziari. In questo modo, se una classe di attività subisce un calo, le altre potrebbero compensare le perdite, riducendo l'impatto negativo sull'intero portafoglio. La diversificazione non si limita solo alle classi di attività, ma può anche includere la diversificazione geografica, investire in diversi mercati globali, e la diversificazione settoriale, investire in settori differenti dell'economia. Questa strategia contribuisce a garantire una maggiore stabilità nel lungo termine. La ricerca di azioni di società che pagano dividendi regolari è una tattica comune per coloro che cercano reddito passivo costante. Le società che distribuiscono dividendi spesso sono stabili e ben consolidate. I dividendi possono essere una fonte affidabile di reddito, in quanto rappresentano una parte degli utili distribuiti agli azionisti. La reinvestizione di questi dividendi può anche contribuire alla crescita a lungo termine del tuo portafoglio. È importante analizzare attentamente la stabilità finanziaria e la storia dei dividendi di una società prima di investire, poiché il pagamento dei dividendi può variare a seconda delle condizioni del mercato e della salute finanziaria dell'azienda. Investire in immobili è un modo tangibile per generare reddito passivo. L'affitto di proprietà è una fonte stabile di entrate, e il valore degli immobili può apprezzarsi nel tempo. È essenziale scegliere le proprietà con attenzione, valutando fattori come la posizione, la domanda del mercato e la manutenzione. La diversificazione nel settore immobiliare può avvenire anche attraverso l'investimento in fondi immobiliari o, real estate investment trust, che consentono agli investitori di partecipare a grandi progetti immobiliari senza dover gestire direttamente le proprietà. La pianificazione finanziaria è un elemento fondamentale per raggiungere l'obiettivo di vivere di rendita. Una gestione oculata delle finanze personali può contribuire a creare un solido fondamento economico per il futuro. La creazione di un budget dettagliato è il primo passo cruciale nella pianificazione finanziaria. Un budget ti consente di avere una visione chiara delle tue entrate e delle tue spese, identificando le aree in cui puoi ridurre le spese non essenziali. Inizia registrando tutte le tue fonti di reddito mensili e suddividi le spese in categorie come alloggio, cibo, trasporti, spese ricorrenti e altro. Analizza attentamente le tue spese mensili per identificare potenziali risparmi. Riduci le spese superflue e cerca di vivere entro i limiti del tuo budget. Il surplus risultante può essere destinato al risparmio e agli investimenti, avvicinandoti così al tuo obiettivo di vivere di rendita. Impostare trasferimenti automatici per risparmiare e investire è un modo efficace per garantire che una parte delle tue entrate venga destinata a fini finanziari senza che tu debba fare manualmente ogni mese. Puoi stabilire un piano di risparmio, destinando una percentuale fissa delle tue entrate a un conto di risparmio dedicato. Inoltre, considera l'opzione di investimenti automatici. Questo può essere fatto attraverso programmi di investimento automatico, in cui una certa somma di denaro viene investita regolarmente in fondi comuni o altri veicoli di investimento. Gli investimenti automatici possono aiutarti a beneficiare dell'interesse composto nel tempo, aumentando gradualmente il valore del tuo portafoglio. È importante regolare le percentuali di risparmio e investimento in base alle tue esigenze finanziarie e agli obiettivi a lungo termine. Mantenere la coerenza e la disciplina in queste pratiche finanziarie contribuirà a creare una base solida per la tua sicurezza finanziaria futura. Se possiedi competenze specifiche o una conoscenza approfondita in un determinato settore, puoi sfruttare la creazione di contenuti online come un blog, video o corsi online per generare reddito passivo nel tempo. Puoi monetizzare i tuoi contenuti attraverso pubblicità, sponsorizzazioni, iscrizioni a corsi a pagamento o donazioni da parte dei tuoi seguaci. La chiave è offrire valore autentico e di qualità per costruire una base di fan fedeli che siano disposti a sostenerti finanziariamente. Partecipare a programmi di affiliazione o sfruttare il marketing di affiliazione è un'altra strategia per generare reddito passivo. Attraverso l'affiliazione, promuovi prodotti o servizi di altre aziende e guadagni commissioni su ogni vendita generata attraverso il tuo link affiliato. Scegli prodotti o servizi che siano in linea con il tuo pubblico di riferimento e che tu possa genuinamente raccomandare. La coerenza e la trasparenza sono fondamentali per mantenere la fiducia dei tuoi seguaci e massimizzare i guadagni. Se hai un'idea imprenditoriale, la creazione di un'azienda o startup potrebbe essere una via per generare reddito in modo passivo nel lungo termine. Ciò potrebbe includere la creazione di un prodotto o servizio che risolva un problema di mercato, la costruzione di un'azienda che funzioni con un team autonomo o l'investimento in un'azienda esistente. L'obiettivo è creare un sistema che possa operare senza la tua presenza costante, consentendoti di generare reddito passivo mentre ti concentri su altri progetti o attività. È fondamentale sottolineare che, indipendentemente dalla strategia scelta, il successo nel vivere di rendita richiede tempo, dedizione e una comprensione approfondita delle dinamiche finanziarie. Consultare un consulente finanziario può offrire consigli personalizzati e aiutarti a prendere decisioni informate in base alla tua situazione finanziaria e agli obiettivi a lungo termine. La diversificazione delle fonti di reddito e la gestione oculata delle risorse sono chiavi per la creazione di un flusso costante di reddito passivo nel corso del tempo.